Buon pomeriggio dallo stadio olimpico di Roma da Giovanni Rispoli e Luca Marchegiani. Si gioca Lazio Chievo e Pascoli si è fermata, la striscia di vittorie consecutive della Lazio non si è fermata invece la voglia di arrivare in Champions League. Pandev in posizione di cross, lo effettua al centro, Rocchi va in anticipo un rimpallo e poi l'occasione capita anche Imenes. Lancio per Rocchi, lo scatto di Rocchi, il seguito da Malagò che però si addormenta, Rocchi può recuperare, mette dentro Pandev e si gira la conclusione. Ciobbina sul filo del fuorigioco italiano invece va a pescare Lusiano, bel pallone, bello anche il controllo di Lusiano che mette dentro Pellissier che gira in anticipo, palla fuori. Manfredini, arriva Bonetto a supporto, al centro per Pandev, il tacco, la palla arriva, Imenes al limite, la conclusione, squizzi, non è perfetto. Bonetto, un cross bello per Rocchi che va in anticipo ma non trova la porta. Il cross Belleri di testa, palla fuori. La Kingua, la sua giocata, è ottima poi, si fa spazio, l'errore, la conclusione da parte di Belleri. Ledesma, ricevuto da Manfredini, cerca Budingai che può allargare verso Belleri ancora, il tentativo di conclusione da parte di Belleri. Bogdani, tutto regolare, non c'è gamba tesa, è un po' solo però Bogdani allora cerca l'appoggio di Troiano che va a cercare un sinistro fuori misura. Porta il pallone Belleri, viene fermato, regala la possibilità al Chievo, ma Bergonzi dice che basta così, finisce 0-0 Lazio-Chievo, un punto prezioso per la formazione veneta in chiave salvezza, per la Lazio un piccolo passo verso l'Europa.